Ora e 23 circa. Le fiamme erano visibili anche da Villa Abate. Percorrendo l'autostrada si distingueva la grande colonna di fumo nero e poi l'incendio in tutta la sua grandezza, mentre avvolge un capannone di via Santa Maria di Gesù alla periferia di Palermo poco prima di via Oreto. Un magazzino di 600 metri quadrati al suo interno, pedane di legno e cassette per la frutta. Prima un'esplosione, poi i residenti hanno visto le prime fiamme che si sono diffuse velocemente. Un cortocircuito, la causa del rogo, sembra che la prima scintilla sia partita proprio da un caricabatterie di un carrello elevatore del deposito. Il calore ha sciolto anche le serrande di alcune case vicine. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare tutte le abitazioni vicine. La polizia ha chiuso il tratto di via Brasca e buona parte di via regione siciliana, proprio davanti alla rotonda di via Oreto. Sette ore per spegnere l'incendio. Oggi siamo tornati sul posto e tra i carboni all'interno di quel che era un magazzino si fanno spazio ancora i fumi di una notte infernale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.